Signori bentornati in un nuovo episodio di Fallout 4 dove nello scorso episodio finalmente abbiamo conosciuto nostro figlio ed è totalmente diverso da quello che ognuno di noi si aspettava, poteva aspettarsi io già ovviamente sapevo chi era nostro figlio e tutto il resto ma ovviamente è giusto che in una serie per chi di voi non conosce il gioco è giusto che io non vi mostri nessuna consapevolezza di tutto quello che accade e cerchi di farvi stavo dicendo è giusto che io non vi faccia capire niente e vivo il gioco insieme a voi e nello scorso episodio tra l'altro mi sono dimenticato a dirvi a fine video che quell'episodio l'ho fatto tre volte raga, tre volte la prima volta ho registrato e dopo 30 minuti di registrazione mi rendo conto che la schermata di OBS era buggata ed era più zoomata la seconda volta invece la rifaccio, aggiusto la risoluzione, vado avanti così parlo con il padre e tutto il resto e poi mi rendo conto che non avevo iniziato la registrazione perciò proprio un coglione la terza volta è il video che avete visto comunque dobbiamo parlare con il predatore conservazione incontra il predatore presumo che debba andarmene da qui ah intanto qua possiamo dargli l'olonastro a cosa? a Sturgis in teoria noi dovremmo adesso poterci spostare liberamente anche senza il chip del predatore non penso sia... ah ok siamo tipo teletrasporto mick buongiorno allora dov'è Sturgis e ridiamo l'olonastro Sturgis ecco l'olonastro che mi avevi consegnato spero sia pieno di dati sull'istituto molto bene inizierò subito a esaminarlo per capire di che si tratta non è nostro nemico probabilmente inutile tempo spiegato cosa speri di trovare? cosa speri di trovare? qualunque informazione l'istituto sta cercando di proteggere tutti i dati più importanti saranno sicuramente protetti quindi prima di tutto devo vedere se riesco a decifrarli una volta finito li analizzerò così finalmente sapremo cosa abbiamo preso dal loro computer centrale ottimo lavoro sporco speriamo di ottenere raga dati importanti comunque dell'istituto ma sto pensando raga ma dove cazzo è il mio cane? non riesco a trovare dog meat ma non c'è un modo raga magari per chi di voi se lo sa di trovare gli animali cioè gli animali i propri compagni magari avere un punto dove si trovano dio mio non li trovo raga comunque dobbiamo incontrare il predatore esattamente qui raga nel dipartimento di polizia o comunque lì vicino ci spostiamo subito vediamo di cosa si tratta io non mi sono unito all'istituto raga e non vorrei unirmi all'istituto a meno che analizzando appunto se sturghe e se ci dà delle buone notizie magari oddio porca puttana ma che cazzo è successo tira una granata segnaletica oh vabbè no vabbè non lo sapevo aia aspetta mi stanno freddando non lo sapevo raga ma è fantastico abbiamo chiamato uno degli istituti aia vaffa culo l'abbiamo freddato oh questo è vivo freddati freddati tutti morti tutti morti oh vabbè che cazzo aveva questo qui torraggio con cinghi operatori ah adesso possiamo trovare pure gli operatori cartucci al plasma ma chi è che spara qua dove cazzo è oddio ma è leggendario oh vabbè sei fortissima quanto fai cagare però con la mira vi faccio vedere una cosa raga non l'abbiamo ancora provata cioè ve l'ho fatta vedere nell'episodio precedente ma abbiamo freddato un innocente troviamo adesso è una merda fa cagare minchia se fa cagare tutto questo per avere un torace in metallo e poi l'arma dei classici predoni ma non esplode sta roba ma che mi fredda male sta esplodendo dio mio mi stava freddando raga alla fine bene parliamo con il predatore raga sono pronto all'azione x688 tu devi essere il predatore che verrà con me esatto designazione x688 ma vabbè cagare ho già neutralizzato la guardia perimetrale non appena verrà impartito l'ordine inizieremo l'assalto al gruppo principale a patto che non mi prenda per il riciclo avere un'altra arma dalla nostra non farà di certo minchia ha ragione vai andiamo va bene andiamo ti seguo perfetto recupera il sintetico ribelle ma dove cazzo è sto sintetico ribelle raga me lo pinga di qui me lo pinga raga voglio provare questo fucile a radio pure che l'ho potenziato al massimo l'ho buildato in un modo eccezionale non vedo un cazzo noi non abbiamo diciamo un'armatura adatta ai combattimenti siamo vestiti così mi sono dimenticato l'armatura atomica guarda che posto raga c'è un cazzo di gabbiano è immortale è immortale è immortale quest'arma qui in teoria ha un sacco di danno pure dovuti alle radiazioni quindi dovrebbe essere molto utile e abbiamo le granate segnaletiche per far arrivare dei sintetici senza considerare che abbiamo un predatore dalla nostra parte io però mi butterei sempre sperando che non ci siano quelle bestie di merda in acqua eh come cazzo salgo devo trovare un modo per poter salire però trovo da qui tramite la nave eh ma non ci arriverò mai lì eh manco salta madonna le radiazioni che mi sto prendendo mamma mia se l'ho freddata male raga oddio ce n'è una un uomo ok allora ci spariamo un red way bocconci di scoiattolo cibo per cani in scatola e vabbè ma era leggendario ho trovato lo shikbab leggendario questo non ce l'aveva leggendario raga ce l'avevo normale finalmente ce l'abbiamo oddio predone veterano questi sono belli tosti raga però eh ok questo è difficile dentro ci sono un sacco di munizioni voglio provare ad aprirla jet buff out guardate qua quanti colpi ok proseguiamo raga ma comunque fa cagare quell'arma della moda come vedete oddio c'è qualcuno con il fatman raga salviamo che qua ci fredda malissimo eh vabbè mamma mia il nostro fucile a pompa raga continuiamo ad avanzare e è bello sto posto raga tra l'altro eh mezzo oddio eh lì dobbiamo stare attenti non abbiamo armi da più distante eh abbiamo questo il massimo oh vabbè l'ho freddato malissimo raga l'avete visto via la testa che livello sono raga giusto per curiosità non lo prendo quello livello 39 non riesco a prenderlo da qui raga devo avvicinarmi e muorici porca puttana le hitbox ok oddio predatore ma lei da dove cazzo è uscito siamo sempre molto attenti ragazzi altra gente non so dove ma c'è occhio qui oh oh vabbè mamma mia fortissimo fortissimo sto fucile punizioni di ogni tipo mini nuke abbiamo trovato pure le mini nuke dobbiamo continuare raga proseguiamo per questo posto bellissimo libertalia oh tiro una granata del sintetico raga lo evocchiamo lì guarda guarda come attacca guarda come pusha il sintetico mamma mia raga una strage guarda il sintetico come pusha bravo bravo che ha quasi quasi raga queste granate dei sintetici sono proprio forti comunque lui resta qui quindi è proprio eop cioè se abbiamo 13 granate ci facciamo un plotone praticamente no raga mi sono buggato però che mi sono buggato pure in acqua quindi sto prendendo le radiazioni madonna ma non ci prendo mai che due coglioni raga sono buggato male ho dovuto ricaricare dobbiamo andare proprio sulla nave andiamo andiamo dove cazzo è nascosto sto sintetico io pensavo ragazzi riferissero a Dima guarda qua qua ci sono dei dei coloni uccisi bocconci di scoiati i coloni proprio attrezzati di merda c'è un mondo così ostile tu vai dietro con i piedini di scoiattolo e pistole artigianali eh ma devo avvicinarmi da qui non posso fare molto eh vabbè insomma eh minchia si nascondono bene oh vabbè colpo la testa beh bellissimo sta arma raga comunque perché poi fa pure danno da radiazioni no quindi fa fa proprio male vai vai ci vado sì ma come cazzo si accede però non posso da qui dai muorici porca puttana ok aia ma la caga uuuh vabbè avete visto raga che cazzo ci abbiamo fatto a questo non ho idea di come arrivare lì minchia forse così si ci arriva qua c'è tipo qualcosa spara uno steampak sì sì andiamo direttamente da loro non è che li tiro un sintetico se posso dove l'ho lanciato minchia è in acqua dai che siete qui fa un culo cartù eh questa aveva il fa oddio ma va a cagare mi sono cagato dov'è butta il fatman raga anche se è quasi quasi raga ora sai che ti dico raga mi prendo il fatman e l'equipaggio al posto no ho sbagliato del bazooka questo bazooka io lo butterei perché fa cagare ma proprio fa cagare ma troppo cagare un paio di risorse abbiamo preso bene saliamo su questa struttura qua c'è del cibo cosa che potrebbe far comodo c'è una cassaforte guarda come si nascondeva prendo tutto granate stiamo salendo di livello raga tra l'altro io in vostra assenza col dlc sono salito di di molti livelli calcola che nell'episodio no due episodi fa ero livello 50 siamo livello 61 o 62 mi pare se saliamo di livello guarda qui qua è pieno di liquore bourbon cabina del capitano andiamo a vedere aspetta un attimo devo dirti una cosa importante cosa si tratta? devo comunicarti il codice di ripristino di B592 basterà fargli ascoltare la frase chiave resetterà i suoi processi cognitivi e lo renderà inoffensivo dovrai dire B592 ripristino impostazioni di fabbrica e fornire poi il codice di autorizzazione gamma 7 1 epsilon una volta disattivato potrò riportarlo senza problemi all'istituto non ho intenzione di annientare l'identità e la libertà di scelta di quest'uomo ucciderlo sarebbe una soluzione più umana mi sa che la nostra definizione di umanità non coincide non è un uomo è un sintetico un sintetico confuso e pericoloso ma anche tu sei un sintetico possiamo ripristinare il suo funzionamento corretto riportarlo in condizioni ottimali non posso costringerti a usare il codice di ripristino ma so che è ciò che vorrebbe il padre ti chiedo di considerare l'opzione non ho altro da aggiungere attendo il tuo ordine vediamo chi è questo ragà perché a me non mi convince tutto questo ma fatti i cazzi tuoi eh ma è leggendaria sta roba danni generici e danni agli arti rinculo ma rinculo maggiore eh vabbè però ci sta ok mi sono fottuto qua mezzo mondo in ogni caso non capisco siamo entrati qui ma non vedo Gabriel ma vaffanculo c'era una scala per andare ancora più sopra ma è qui allora oddio l'istituto è così a corto di risorse da doverle rubare alle oneste bande di razziatori del commonwealth quanto bottino quanto bottino hai accumulato quindi ti interessano le nostre cose avevo ragione capo ma cosa stai facendo possiamo farli fuori senza problemi tieni la bocca chiusa so quello che faccio abbiamo messo da parte qualcosina stami a sentire facciamo così se prometti di levarti di torno ti lascio prendere tutto quanto allora che ne dici ho la tua parola mai hai la mia parola dammi il tuo bottino e noi ce ne andremo tu potrai continuare a fare il tagliagole per il resto della tua vita la password per prendere il bottino è mud orca prendi quello che vuoi pirata noi potremmo sempre procurarci mi dispiace ma ho i miei ordini ma ma stai bene gabriel riesce a sentirmi merda gli hanno fatto qualcosa facciamoli fuori aspetta levati dal cazzo porca puttana levatevi dal cazzo un attimo ma perché l'hai fatto comunque riporterò indietro il sintetico qui x688 sono pronto al tele no dai l'ha preso comunque però ci ha dato la password ragazzi ha dato la password del suo terminale devo trovare il terminale ah vabbè ma c'è solo la apri serratura si uno stealth boy minchiate tutto questo per per delle minchiate fondamentalmente quindi lui è ritornato all'istituto torna dal padre vediamo raga andiamo dal padre vediamo cosa ci dice dov'è padre sono felice di vederti ritornare sano e salvo ma si è cambiato so che l'incarico era difficile ma dovevo fare in modo che vedessi personalmente quanto può essere pericoloso un sintetico in fuga ma la colpa è dell'istituto alla fine appunto l'istituto ha creato quel sintetico quindi l'istituto è responsabile delle sue azioni non sono d'accordo in sé un sintetico non è più malvagio di una pistola quando qualcuno muore per un colpo di fucile la colpa ricade sul produttore dell'arma ovviamente no la colpa va giustamente a colui che preme il grilletto si noi abbiamo creato il sintetico ma a farne un killer sono stati volenti o nolenti i membri dei railroad bene ora basta fare di questo l'incarico si è concluso e ci hai riportato il nostro sintetico integro non avrei potuto sperare in un esito migliore ben fatto durante la tua assenza ti ho fatto preparare un alloggio ci troverai tutto il necessario ai tuoi bisogni oltre a una generosa scorta di armi ed equipaggiamenti vai a dare un'occhiata sono sicuro che lo troverai soddisfacente cioè così lui parla come se niente fosse noi abbiamo messo un intero gioco a cercare il nostro figlio lo troviamo e lui io ho preparato la stanza è diventato il nostro padre più che il nostro figlio dove cazzo è questo alloggio giusto per oddio ma sono tutti uguali è tutta la sorella di Piper tutte le bambine sono così questa qui è la mia stanza i tuoi nuovi alloggi sono qui vabbè vai cagare questo qui è il mio alloggio sì ma perché mi stai quando hai finito il padre desidera vederti va bene ok delle forcine del radix qua tutto pulito posso pisciare no non sto cagando perché in teoria dovrei abbassare i pantaloni e alzare la tavoletta almeno e dove sono le ha tuta sterile ah così come un membro dell'istituto siamo dammi il mio smoking e dov'è la scorta di armi equipaggio a me ah c'è la diffusione steam pack vabbè un istituto fucil si è rotto il culo dai parliamo col padre la battaglia di bunker hill si chiama questa missione perché la battaglia di bunker hill con il padre è tutto così strano comunque non so veramente da che parte stare che da una parte l'istituto sembra avere però dall'altra parte perché fare tutte ste cose comunque mi hanno rubato il figlio vorrei capire questa è una domanda tra bocchetto cosa ti hanno rubato non capita spesso che le proprietà dell'istituto vengano sottratte quando questo accade non possiamo lasciar correre il gruppo che si fa chiamare Railroad si è impossessato di diversi sintetici dell'istituto facendoli scomparire durante gli ultimi mesi la loro intenzione è quella di liberare i sintetici che nella loro follia considerano pari a degli esseri senzienti hai già avuto a che fare con i Railroad quindi conosci le loro assurde convinzioni si ma i ro non vogliono fare del male appunto non vogliono fare del male agiscono in base a ciò che credono essere giusto hai visto cosa è successo a Libertalia ecco a cosa porti il loro progetto egoista e miope solitamente non ci creano molti problemi ma negli ultimi tempi si sono fatti più ardimentosi temo che ormai una nostra risposta sia inevitabile abbiamo scoperto la posizione attuale di questi sintetici dobbiamo recuperarli prima che i Railroad possano nasconderli ma io posso rifiutarmi è troppo pericoloso mi sembra un'azione troppo pericolosa non dovrebbe esserlo la cosa importante è agire subito prima che i Railroad si accorgano di essere stati localizzati inoltre non vogliamo che la confraternita d'acciaio venga sapere della presenza dei sintetici sarebbe un'inutile complicazione farò in fretta puoi contare su di me il tuo contatto ti aspetta all'esterno di Banker Hill buona fortuna informa la confraternita ecco bello che mi dà questa scelta posso informarli raga allora la confraternita me ne sto fottendo perché secondo me sta siendo non nacata ammatela però i Railroad io li avviso raga dove cazzo erano i Railroad qui generale dei Railroad cioè Nick raga è un sintetico ok ed è un amico cioè quindi io sono vabbè non rompere i coglioni io sono dalla parte raga del Railroad va circolando una notizia interessante pare che tu abbia scoperto dove si trova l'istituto esatto e che tu l'abbia addirittura visitato pazzesco non trovi? è vero è tutto vero Deacon dice che hai usato un teletrasporto possibile? ciò che i tuoi minuteman hanno fatto in così poco tempo dovrebbe riempirti d'orgoglio presto o tardi anche i minuteman avranno un piano per liberarsi dell'istituto ma dubito che i tuoi soldati si preoccuperanno di salvare i sintetici al suo interno sono sicura che tieni alla libertà dei sintetici almeno quanto noi per questo dovremmo collaborare esatto schierati con i minuteman schierati con i Railroad ah minchia raga che scelta difficile però aspettate allora se mi schierassi con i minuteman ovviamente si aiuteremo comunque a distruggere l'istituto ma questo succederà in qualsiasi caso anche con la confraterra però uccideremo i sintetici al suo interno una risposta sarebbe apprezzata ti stai zitta però i sintetici al loro interno alla fine non sono sintetici che scappano dall'istituto sono coinvolti attaccheranno quindi li facciamo fuori sti cazzi ovviamente se c'è qualcuno che non è d'accordo con l'istituto all'interno dell'istituto lo salviamo e quindi comunque farei un favore ai Railroad mentre con loro non so se cambierà la cosa con i Minutemen ma calcolando che Preston non è più un mio amico dei Minutemen mi ha mandato a fanculo solo per un errore mi schiero con i Railroad proprio risposta personalissima va bene lavorerò con voi non sai quanto speravo di sentirtelo dire quello che sto per rivelarti è il più grande segreto dei Railroad minchia è ora che tu sappia di Patriot nell'istituto c'è un uomo o una donna non lo sappiamo e aiuta i sintetici a fuggire decine di sintetici gli devono la vita non sappiamo il suo nome né abbiamo modo di contattarlo quindi l'abbiamo nominato Patriot dovrai infiltrarti nell'istituto ed entrare in contatto con Patriot minchia bello eccellente Tom sa già come inviare un messaggio a Patriot inseriremo un messaggio in codice in un terminale dell'istituto e se tutto va bene Patriot risponderà parla con Tom per sapere come procedere vai vai intrigante sotto copertura sotto terra parla con Tom e tutto fare il nostro Tom Tom sei tu Tom guardalo lì che cazzo mangi il ramen davanti a me incredibile che tu abbia visitato l'istituto a caso dentro la tana del leone ma veniamo a noi ti metterò in contatto con Patriot questo è un altro capolavoro di Tom tutto fare perfetto caricalo in uno all'onastro inseriscilo in un terminale dell'istituto e avvialo bene grazie carica il messaggio codificato al terminale dell'istituto bene direi di andare direttamente all'istituto eccoci qua siamo all'istituto e adesso dobbiamo soltanto cercare un terminale penso che vada bene uno qualsiasi basta solo trovarlo però e adesso dove cazzo lo troviamo un terminale uh nucleo di fusione ragazzi sono entrati in una porta a caso ho trovato il bordello ok qua c'è un terminale ragazzi vediamo se va bene questo carico all'onastro appunti sistema avanzati all'onastro con messaggio codificato questo è messaggio da Tom la grande dia richiesta di tutore perciò eccolo qui ok vabbè copia il messaggio ok quindi ce l'abbiamo leggi la risposta eh dove cazzo la la leggo la risposta di Patriot vediamo se magari mettendoci cosa lo vediamo messaggio leggi risposta urgente vediamoci alla stanza di manutenzione della divisione dei sistemi avanzati attenzione ha risposto ragà e si sta facendo intrigante ragà è qua è qua eccolo sono io allora sei tu che hai mandato quel messaggio in codice si può sapere come hai fatto credevo che nessuno in superficie fosse in grado di decodificare Trinity sai l'algoritmo di codifica Tom il mio amico Tom Tuttofare è riuscito a decodificarlo deve aver usato dei macchinari di tuttofare cerco Patriot i Railroad mi hanno chiesto di cercare un certo Patriot sei tu cosa i Railroad intendi quei Railroad mi hanno anche dato un nome in codice ho mandato i sintetici in superficie nella speranza che qualcuno li aiutasse mi auguravo che i Railroad ne trovassero qualcuno ma non potevo esserne certo li hai salvati hai salvato molti sintetici allora ha funzionato però aspetta la tua presenza offre una nuova possibilità quella di salvare molti sintetici in una volta sola ma ci servirà aiuto dov'è che lavorava ah si andiamo all'Atriovest eh perché però vedi perché all'interno dell'istituto lui salvava roba vedi che ma forse c'è qualcosa che non va ma tu sembri perfettamente normale senza offesa e di qui oh mamma mia c'è il bordello però capito è ovvio che c'è qualcosa raga cioè se all'interno dell'istituto c'è gente che vuole farli uscire significa che c'è qualcosa di losco che comunque non è giusto quello che fanno e c'è qualcuno qui dentro che la pensa come i Railroad dai però devo seguire te cammina no porca puttana ti devi far freddare non volevo arrivare a tanto dai cammina si ma si si schifano i dialoghi niente che cosa sto vedendo si è pagato tutto ok perché io sono io perché ogni membro dei Railroad ha giurato di combattere per la vostra libertà allora non c'è solo il signor Binet anche i tuoi amici lottano per noi i Railroad fanno questo Z1 lui viene dalla superficie non ho mai conosciuto umani disposti ad aiutare ma dobbiamo agire in fretta Z1 attualmente quanti sintetici vogliono fuggire con assoluta certezza 13 ci vorrebbe un'eternità li libereremo tutti in una volta 13 sintetici che sarebbero i sintetici come li condurremo al teletrasporto le vecchie gallerie di manutenzione che portano qui sono sigillate dall'URS se io riuscissi ad aprire quelle porte che sarebbero i predatori potreste portare quei sintetici nella stanza del teletrasporto sì ne riparleremo in un luogo più sicuro sono semplici porte ad alta sicurezza no? controllate da sofisticate tecnologie URS già neppure io riuscirei a violarle proveremo un approccio diverso mi darai una mano vero? non posso farcela da solo certo che ti aiuterò le nostre misure di sicurezza non sono cambiate molto dai tempi del vecchio Città il programma di sicurezza originale si chiamava Code Defender rivoluzionario per l'epoca nei magazzini abbiamo ancora dei terminali con la versione 1 con un po' di persuasione un vecchio terminale potrebbe interfacciarsi con quelli nuovi almeno per quel tanto che basta per aprire le porte il problema è cliccare la versione 1 mi servirebbero nome utente e password come ai vecchi tempi ma all'istituto non ce n'è traccia recupera una password da amministratore prebellica in superficie e potrei riuscire ad accedere vai la troverò ottimo purtroppo non la troverai nel posto più ovvio le rovine del CIT sono state repulite da tempo ma alcuni amministratori non vivevano al campus e dove? chiedi ai tuoi amici Railroad mi servono quelle credenziali da c'è bene quindi dobbiamo di nuovo parlare con che due coglioni vi fanno fare avanti e indietro col teletrasporto cazzo ti stai parlando Goku rieccomi dai Railroad donna cagami 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 di voi lo sa già comunque non posso chiedere di mantenere oltre il segreto su una cosa del genere quello che si dice è vero uno dei nostri agenti è riuscito a penetrare nell'istituto era su questo che stava lavorando Tom tutto a fare? si il lavoro di Tom ha a che fare con tutto questo ma il dispositivo e l'assemblaggio sono opera di Wanderer dopo aver assemblato il dispositivo è entrato nell'istituto e poi è uscito Dov'è l'istituto? Non lo sappiamo di preciso Ma riteniamo che sia da qualche parte sotto il vecchio CIT Sì, sì, più o meno l'impatto In realtà usa un dispositivo di teletrasporto come mezzo d'accesso Per cui potrebbe essere ovunque Cosa abbiamo scoperto? So che avete tutti delle domande Ma ho già detto tutto Però sappiate che le operazioni in fase di pianificazione e di esecuzione Sono le più importanti della nostra vita Abbiamo la possibilità di salvare molti più sintetici di quanto sperassimo Vabbè, 13 Mettiamoci all'opera Dannazione Perdere Augusta è stato un brutto colpo So che tu non senti Carrington vuole parlarti Cagami, cagami Allora, quindi Pericolo a Bunker Hill L'istituto sa di Bunker Hill Hanno intenzione di catturare i sintetici che si trovano là Ah, qua li stiamo avvisando su Il vecchio sta proteggendo quei quattro sintetici Non c'è un altro luogo sicuro dove nasconderli Mantenere la tua copertura è di vitale importanza Ma questo sacrificio è troppo grande Ah, d'accordo Stockton e i sintetici si fidano di noi Non possiamo abbandonarli Hai ragione Non abbiamo mai saputo dove e quando l'istituto ci avrebbe colpito Ora però abbiamo la possibilità di cambiare le carte in tavola Aspetteremo che il nemico sia in posizione Quindi lo colpiremo Duramente Nessuno dei loro deve salvarsi a parte te Hai capito? Vai Con il mio supporto dall'interno la cosa è fattibile Non possiamo attaccare troppo presto Dovremo attirarli nel punto giusto per poi far scattare la trappola Tu saprai quando Probabilmente avrai un predatore come scorta Dovrai eliminarlo Bene So che l'hai già fatto ma sarà comunque pericoloso Ma qua ho un Fatman dietro come la prima volta raga Come hai detto l'ho già fatto È un rischio Ma siamo costretti a correrlo Per cui procedi A posto Allora adesso sarei molto curioso di vedere come reagirà nostro figlio Sapendo che noi comunque non stiamo supportando per niente quello che lui ha creato Si metterà contro di noi Ci darà un motivo in più per sparargli in faccia senza rimpianti Vedremo Per il momento dobbiamo parlare sempre con lei Hai già incontrato Patriot? Sì sì l'ho già incontrato Ho incontrato Patriot Si chiama Liam Binet Sapevo che ce l'avresti fatta Tutto ciò che hai recuperato là dentro tornerà estremamente utile Compila un rapporto completo sul terminale di Pam Dopo averlo analizzato decideremo cosa fare Perfetto Inserisci il rapporto nel terminale E qua c'è un terminale? No questo non funziona Dove cazzo è il terminale? Poi devo andare pure al volto a posare un paio di robe Allora inserisci il rapporto Bene il rapporto di istituto non era sicuro Bene Parliamo con lei Analisi preliminare completata C'è qualcosa di interessante? Affermativo Nome in codice Patriot Richiede credenziali di amministratore per il software di sicurezza Code Defender Incrocio registro amministratori sicurezza CIT con censimento Commonwealth 2077 in corso Filtro le strutture superstiti Un risultato trovato Bergman Wilfred Bergman Wilfred Registrato come comproprietario della Cambridge Polymer Labs 81% di probabilità che le credenziali siano in tale struttura Minchia ci vado subito Ci andrò subito Torna qui dopo aver recuperato la password Mamma mia molto interessante Raga sarà un episodio lungo ma non posso interromperlo adesso Raga dobbiamo andare fino in fondo Intanto possiamo fare sia Bunker Hill e avvisare i Railroad Ma intanto facciamo quest'altra cosa per salvare i sintetici Perché ci sono due missioni che vanno quasi in contemporanea Ok ed è qui che dobbiamo andare a prendere la password Tra l'altro un posto che non ci siamo mai stati raga Ma possiamo andarci velocemente tramite l'avamposto Possiamo spostarci qui Abbiamo pure un talento da mettere Io dovrei andare al volt 88 È un bordello Forse quasi quasi lo farei adesso Però vediamo come siamo messi a peso Aspetta 262 Sì 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 raga Vado un attimo al volt Ma mi sa che non posso perché qua c'è un combattimento Ma sono quelli di Bunkery Non lo so se l'ho già incontrato Però è nemico vai a cagare Oh ma chi cazzo era Io non lo so Qui l'ho visto Andiamo al volt Ok raga io mi svuoto Mi prendo l'armatura atomica E parto Tra l'altro armatura Nuka Cola Presa direttamente nel DLC di Nuka World E dovremmo andare verso questa direzione Ok il posto è questo raga eh Cambridge Polymer Lab Andiamo Dobbiamo recuperare questa password Poi c'era l'81% di possibilità di trovarla Quindi sicuramente con la nostra fortuna Avremo il 19% di sbagliare Benvenuti alla Cambridge Polymer Labs Buongiorno Qui ti attendono grandi opportunità Nel campo della ricerca scientifica Vogliamo procedere con la tua candidatura? No Mi sa che devo farlo per forza No non devo farlo per forza Me ne posso fotter Si cazzi E non parlare se non ti freddo eh E' giusto che Che avvisiamo di queste cose E' ardua raga E' vabbè Che culo Che cazzo ci fa un ghoul? Perché c'era un ghoul qui? Con un guanto da forno E' colpevole Ci siamo Ehm Infliggi permanentemente Più 2% di danni agli arti Si sono rotti il culo eh Il 2% C'è un terminale Terminale del direttore Non puoi farlo mentre indossi l'armatura atomica Risolviamo subito Tra l'altro ho visto un nucleo di fusione qui eh Se non sbaglio Allora fammi vedere qua Ehm Mail Server interno Dov'era? Sei lì? Ce ne andiamo Registri personali? Chiamata di camp Non è qui che dobbiamo andare Non è qui Qui non c'è niente di utile raga In questo Questo terminale E da un'altra parte Come sempre Munizioni di ogni tipo Stiamo trovando La colla raga Mi serve un botto Perché non abbiamo Adesivi per modificare Le nostre armature Le nostre armi Non ho idea di come si accede A quelle altre stanze raga Io dovrei andare dietro Questa Questa struttura Ma da dove? Non è che devo farmi dare qualcosa da lui Vediamo Va bene accettiamo raga Forse lei mi ci porta Ehm Guarda qua Ok Di qui Ho un redway Questa porta è chiusa Forse si apre tramite un terminale Terminale della stanza della purificazione Abbia sequenza decontaminazione Perfetto Si sono aperte Si sono aperte Go Completa il progetto di ricerca Addirittura C'è pure un'altra missione qua Che ci danno Ehm Campione non identificato E ci sono robe strane raga Qui Io devo cercare di abbreviarvi il tutto Perché l'episodio Se no viene chilometrico Ahia Però sto trovando dei campioni raga Penso dobbiamo mettere questi campioni E poi avviare qualcosa tramite il terminale Quindi Non ci resta che Controllare per bene le stanze Far fuori tutti i ghoul Ecco qua c'è un altro campione Vedete Un altro campione non identificato Oddio Ok Eliminiamo C'è un terminale bloccato Vediamo Ce l'ho fatta Che culo Comandi della porta di sicurezza Apri porta Quale porta si è aperta Non ho idea Però devo mettere i campioni Penso qui Mettiamo uno Due Questo non posso Aspetta leggiamo raga Vediamo che cosa dice Scansioni in reagenti caricati Ok Acido cloridrico E idruro di litio Verifica parametri di fabbricazione Esegui una routine Fabbricazione in corso Sotopo radioattivo richiesto Ah ok Così li scansioniamo Perché non sono identificati Quindi li scansioniamo Ok Gaglio e Tungsteno Tungsteno Non so come cazzo si pronuncia Quindi anche questi Quindi dobbiamo cercare l'ultimo Praticamente Vediamo se possiamo Apri la porta esterna Della stanza di pubblicazione No quella interna voglio aprire Come il blocco Apri quella esterna Niente c'è un blocco Non possiamo Possiamo però salire sopra Qua c'è un altro terminale Nick Apri il terminale Qua c'è un'altra porta Difficile Sì Che culo Comandi di porta della sicurezza Apri porta Non c'è la trappola Madonna mia Ok Un altro campione non identificato Ragazzi speriamo che sia quello giusto Tra l'altro qui è che dovevamo andare A prendere la password Per il railroad Ultime note Richiesta password Archiviato Perfetto Abbiamo la password Abbiamo il nome utente Abbiamo tutto Il contenimento I so dopo i comandi locali Si sono Stanza della purificazione Accesso utente Ok Poi passi di blocco Annullati Perfetto E in teoria Ho annullato tutto E possiamo andarcene da qui In teoria Però aspetta Perché voglio andare Fino in fondo Sono le torrette Io vorrei capire Soltanto Questi luoghi Fondamentalmente Sono dei laboratori Cioè Prima della guerra Erano dei posti Dove lavoravano Dipendenti Comuni Lavoratori Micchia Porca puttaccia Abbiamo le torrette Cioè Non lo so È come andare Non lo so Tu vai al supermercato Ci sono le torrette Stiamo freddando un po' tutti Cazzo è Una nota Tutti quelli rimasti Hanno cercato di entrare Nel laboratorio Queste sono tutte persone Morte così Abbiamo un sacco Di documentazione tecnica Raga Ne ho raccolte veramente tante Ok Non ci resta Raga Che analizzare questi altri E vedere che cosa succede Allora abbiamo Questo qui Non codificato Insomma Vediamo Scanzioniamo Oro e cobalto Ah Devo mettere l'idruro di litio E l'oro E applicate Avvio sequenze Dosaggio Radiazioni Signori Ho trovato Questa roba Quindi io qui Devo mettere adesso L'idruro di litio E oro E in teoria Dovrebbe funzionare Progetto di vestimento Nucleo redattivo Fabbricazione in corso Oh Operativa caricata Fabbricazione in corso Si prega Di La finestra E Quindi Lo sto facendo Attenzione Tutto questo Comunque ho letto Dalle note Che era per fare Una parte di armatura atomica E infatti Vedi Torage Ma vieni L'esposizione La radiazione aumenta La velocità di recupero Dei punti azione Guarda qua raga Missione compiuta E possiamo uscire Porca puttana Eh Molli Non ci vorrà molto Signori Qui abbiamo finito Abbiamo fatto Tutto quello Che Che c'era da fare In questo posto Adesso Dobbiamo semplicemente Tornare dai railroad E vedere un po' Come proseguirà Questa cosa Da chi Stiamo giocando Un po' neutrali In queste fasi Finali del gioco Io vi invito Al solito A supportare la serie Con un bel mi piace Scusatemi Per l'episodio lungo Ma so che a molti di voi Piacciono Più lunghi sono Meglio è Senza doppi sensi Io vi saluto Un salutone da Sky Capobianco E al prossimo episodio Ciao Ciao Porca puttana Alla prossima Ciao